Certamente la decisione dell'Università Cattolica di confermare il proprio impegno affrontando lo sforzo e l'impresa di ristrutturare una parte del seminario di Monpiano è avvenuta all'esito di una lunga ponderazione che aveva per oggetto la verifica del senso scientifico, culturale e didattico della presenza dell'Ateneo nella città cercando di riflettere su quali proposte formative potevamo essere in grado di confermare e di ampliare e quali iniziative di ricerca e soprattutto di terza missione cioè di interrelazione con il tessuto produttivo e con le istituzioni del territorio potevamo dispiegare I risultati di questi ultimi anni ci confermano in termini di risposta degli studenti e delle istituzioni che la presenza della Cattolica a Brescia è una presenza vitale bene accolta e con una intensa capacità di interlocuzione con tutti gli attori e le istituzioni del luogo quindi avere investito in modo significativo è certamente un modo di destinare risorse che avranno un ritorno soprattutto di tipo immateriale che è poi la missione delle università cioè in termini di educazione in termini di ricerca e in termini di trasferimento tecnologico questo nuovo campus 2500-4000 circa nel complesso la sede di Brescia perché qui trasferiamo le attività che erano collocate in precedenza in Contrada Santa Croce, in Via Leardi e in Via dei Musei quindi questa è una ridislocazione che però rendendo più efficiente l'uso degli spazi ed evitando le duplicazioni inevitabili che si verificano quando si è collocati in fabbricati diversi possiamo acquisire anche una maggiore disponibilità e quindi utilizzarla per potenziare la nostra offerta se poi avremo delle esigenze ulteriori valuteremo il modo in cui rispondere a quelle esigenze certamente non intendiamo abbandonare la sede storica di Via Trieste è una promessa fatta alla città che gradisce alle istituzioni locali la presenza di una struttura accademica nel centro della città è certamente anche un luogo non solo prestigioso per la sua monumentalità ma anche al quale siamo decisamente legati e affezionati quindi gli insediamenti della Cattolica Brescia saranno due quello di Via Trieste storico e questo nuovo grazie a tutti